Ogni Santa Messa ben ascoltata e con devozione produce nella nostra anima effetti meravigliosi, abbondanti grazie spirituali e materiali che noi stessi non conosciamo. Per tal fine non spendere inutilmente il tuo denaro, sacrificalo e vieni su per ascoltare la Santa Messa. Il mondo potrebbe stare anche senza sole, ma non può stare senza la Santa Messa. Vieni Santa Spiritus